Among Us, Fasmofobia Among Us bellissimo Among Us Ok andiamo Si parte Voglio uscire, no in realtà non voglio uscire Neanche io perché poi Mi vogliono votare tutti No infatti poi dopo è difficilissimo Ma no Uno ci ha lasciato L'ultima che era entrata oltretutto Un impostore magari Potrebbe essere Facciamo aiutare così vinciamo Lui l'ha detto Oh io ci sono vicino Vado a riaccenderle Sono accanto ad Alex, se vuoi è lui Ok Ho acceso le luci Brava Giorgia Io ho visto cose però non posso Non so C'è un morticino Uno svenuto Oh no E chi l'ha ucciso Do morti due No è crashata Capisco L'ho trovato fuori a comunicazioni E il punto è Che mentre stavo reportando Ho visto un movimento Ma a me si era già aperta tutta la schermata del report E quindi non ho visto chi fosse Ti ricordi il movimento? Il colore del movimento? No E allora perché hai E perché ho trovato il colpicino Secondo me è Alex Perché non è possibile Ascolta Allora Io ho visto Stavamo accedendo le luci Chi era con me Al 90% non è Perché ho visto una bottola aprirsi sopra C'era Alex con te? Però era proprio accanto a me No è impossibile che ero io Ricorda che sono tre impostori Hai vero? Ma io non so Non ho fatto niente Vabbè Non è uno dei tre Alex Io schipperei Com'è Alex? Non abbiamo visto nulla Vabbè allora schippiamo Per me era Alex Dai Allora Stressevi Alex E ma il punto è Se fossi stato Alex Mi avrebbe già ucciso Non è vero Perché magari non ci è riuscito Guarda che è passato pochissimo Io per quel poco che ho visto Aveva un cappello Però qua Praticamente tutti C'hanno un cappello Quindi Non conta No due hanno votato Alex Comunque E tu mi sa No io non ti ho votato E ti sento dire già Come ti permetti? Come ti permetti? Hai supposto che ero io Ah e non lo posso fare? Ma rimangono tre impostori Non posso dire che secondo me sei tu? No no Non ho fatto Le luci Ma queste luci Tu puoi dire quello che vuoi Eh ci mancasse pure Guarda che è un caffone Devo chiedere a te Devo chiedere il permesso io Vado in giro A fare le task E comunque ho perso Alex Quindi è Eh Mi sono facendo le task Qua è tutto troppo tranquillo Guarda che è un po' Ho tutte le task in Qua Non so come si chiamano Ho sentito una porta Mh Ho chiuso il caffello In caffetteria Eh vedo 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 Tutto bloccato Devo fare tanto Oh devo fare anche una cosa In caffetteria Ah che schifo Giorgia è stata Brutalmente uccisa Ma che c***o Ma chi era questo? Stanno uccisa due volte Ma chi era? No Anna Ma il secondo chi era? Ma che luci? No no raga ma chi Anna Ma cosa è successo? Cioè C'è morto di tutti No ragazzi stanno uccidendo tutti i nostri Non va bene Non va bene Ho trovato il colpo di Giorgia Aspetta Volevo aspettare che si accendessero le luci Allora iniziamo a buttare fuori qualcuno Perché qua stanno morendo tutti quanti E non va bene Soprattutto non va bene Allora io ho visto Io ho visto Io ho visto Non so poi puoi parlare Chi? Chi ha visto? Tu chi hai visto? Ah io ho visto il corpo di Giorgia Al centro in caffetteria E più o meno da quella direzione arrivava Da Crocso VGF No 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 Io ho visto meglio Io ho visto Space Meat Che era sicuramente causa dell'omicidio di Giorgia Perché era lì molto sus Non stava facendo niente E lui Space Meat E allora lo votiamo? Sì sicuramente non c'è dubbio Ok via via Ma non ti sostiene Giorgia che Anna È tipo all'inizio Dai poverine Siamo rimasti noi tre Infatti questa cosa non mi è piaciuta proprio per niente No è uscito un altro Ma questo era morto? No No non era morto Perché questo era un impostore? Deve votare per un'altra persona Votate Tocca a chiccare eh se non votano Ah non votato Sì Prossima volta che votate in ritardo Pim Calcio non cedere fuori Nel voto si darà Guardate un po' Lo sapevo Oh era lui C'avevi ragione L'ho visto palesemente Oh oh Le luci Ah Io infatti Prima non volevo riportare Aspettavo se ce ne sono le luci Però hanno riportato Non è che non volevi riportare perché sei tu No no Eh Oh ma l'abbiamo di accese Sono buggate Ci sono accese Poi si sono rispente subito Ho visto una persona sus Io quasi finito tutte le tasche Ma io ho visto tante persone che girano Ma non fanno task Ho visto Ho visto Ho visto Me l'ha ammazzato davanti Ho visto proprio benissimo E che era? Era Eh Sawagallant Ma davanti a te Lo sai non so per dire anche io Perché mi seguiva prima Non è Allora non me l'ha ammazzato davanti Ma era Sta fingendo di fare una task Poi sono ritornato indietro E c'era il morto in terra Quindi È palesemente Lui o lei Non è stata una furbata No 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 Anche A meno che non gliel'abbiano ammazzato Mentre stava facendo la task Che non ha visto niente Però non ce ne frega nulla Noi buttiamo fuori Eh dipende che tasche era poi Era quella dei cavi Quindi Compre molto Eh ti blocca un po' Un po' ti blocca Va bene il caso mi dispiace Allora Uno o due Ah mi dispiace Non era lei Non fa niente Non è che hai visto qualcun altro E poi c'erano due E siamo in Due, quattro, sei Ah Siamo Oddio No ancora E basta Sto andando anch'io eh Io voglio fare le task E io faccio le task Davvero Tanto ormai Guarda No no al buio Sei pazzo Eh ho curato No ragazzi Ho visto tutto quanto Eh non ho ammazzato Un'altra persona No Però uno mi ha chiuso dentro E Deve essere lui Oh E Lions sei per morire No sono uscito ora Ok E comunque era Gabri tipo una roba rossa Ho capito Ho capito chi è E questo qua dove c'è anche strecato Oh no No Strate Eh vabbè abbiamo vinto Mi hanno ammazzato Ah ah Succa Stavo dicendo Allora Indignata Indignata è dir poco Praticamente il tuo gemellino specchiato Ma Masturato All'improvviso Anche a me mi ha ucciso lui All'ultimo Facciamone Scusate un'altra Mi vedi Mi vedi Sì sei orribile Anna Non so come fai a trovare Queste combinazioni Mi impegno tanto A vestirmi in maniera cool E tu ogni volta Che è orribile Hai rotto la partita Eh sei brutto No ecco ecco è andata No Eh è partita La partita è partita Non sono niente Mi ha fatto il rumore Tipo paurosissimo E pensavo di essere Il killer Gne 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 Basta Basta Eh gne gne Cosa basta Cosa No Sempre gne 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 a me Eh lo fai Cos'è colpa mia ora Eh Gne 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 Sì non lo farei per Lion No Oh Sei tu Lion di nuovo No Perché Io sono andato alle luci Ma c'entra Non è che le faccio solo io Ah no Perché tu sei fissato con le luci Secondo me è streca Tu sta parlando troppo Mi piaccio non fatto le luci No 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 Adesso mi creo degli alibi Devo andare Ma dove sono tutti No Allora vediamo se qualcuno ha visto qualcosa Eh No Maurizio Sei già morto No Dai Ma che cattiveria Prima di tutto voglio sapere questa cosa Bisogna 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 Beccarne uno Allora tra di noi ce n'è uno Strecato Non lo so No io non sono Giuro Io non sono E chi io sono È Alex No te lo giuro non sono eh Votiamo Aida Mi ispira Ok Ma se indovini Devi insegnarci come fai Mi apre il tazzo occhio Tu devi guardare le persone Devi De la loro anima Guardare la mente Giorgio come mai ti hanno votato Eh non lo so Sei giusto Saida Non lo so Lo giuro Su tutto quello che volete Davvero Ti dispiace Ho sperato E niente Mi rimane proprio te Alex era troppo sollevato Da questa cosa Secondo me una è Anna Che vuol dire io ho giurato No Lo giudevano io Non siamo noi Vedi non lo faremo mai questo Io sto andando sopra Chiamato Ok ho fatto Ho visto una roba un po' sus Anche io Tipo No Perché c'è stress una venta Eh c'è una tasca lì Ah E c'è di più Io penso di sapere chi è Però Chi è secondo te Giorgia Dov'è Giorgia di brutto Ti giuro Me la sento troppo che è Giorgia Ma non lo sono Ve lo giuro Vi faccio vedere È una tasca e non lo so Allora È famosa Giorgia per essere una spergiura Ma E per rubare la frutta Quando c'era la questione di ossigeno Io stavo andando nella parte di sopra Alex se ne stava andando nella parte contraria Quando mi ha visto ho cambiato strada Per il momento Alex Oh se se Perché Allora io stavo andando nell'altra parte Poi stregatto in quel momento ha detto L'ho fatta io E a me ci vuole un attimo per collegare Quindi ho guardato E non stavo andando più nella parte giusta E ho cambiato strada Ve lo giuro Tu lo sai che se poi sei tu io ti griffo più Te lo giuro non sono io Eh Giorgia buttiamola fuori Non sono io però C'era qualcuno che non lo stava facendo Qualcuno deve essere cacciato qua Io dobbiamo inizio Allora nella parte tua Giorgia c'eri solo te No c'era anche un altro Ma c'eri solo Eri sola No c'era un altro Di il nome Giorgia Matt VGF Terremo in considerazione Io quando sono arrivata era da sola Eh ma lei è d***a Quindi magari Non era lei E non era lei Corrente No Ok il verde è qua Aspetta forse Anna è qua Ok beh Recatto ricordo dove ero E con chi Premi 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 Ho capito forse Il reporta reporta Eh no però Non sono vicino Mi hanno bloccato tutto Non so dove Ma dove eri Alex Nell'altra Aspettate Non lo può dire Non lo può dire Lui era Tutto a sinistra Cioè Anna non c'è proprio dubbio Anna ci sta Ci vuole proprio togliere ogni dubbio Ho trovato un altro Ho trovato un altro E reportalo E Anna Eh raga però Cioè qui O zecchiappa E Anna Cioè Allora Allora Aspetta Alex Eh Sono quasi convinto Che era con Babou Babou E se fosse Lion Non sono io Ok Ok meno male Che era lui Allora Facciamo un bel discorsetto Premiamo il suo pulsante Prima di tutto Anna Cosa fuori Premi il suo pulsante No l'ho già premuto Oh Le basta Vai quello su Io vado in quello giù Stresse e muori Come io Fatto Ok No Lo sapevo Anna Lo sapevo Anna Lo sapevo Anna Io lo sapevo Cosa E adesso Vongola dirà E Anna L'ho vista Eh lo dice sì Ti giuro Vongola Come so Che mi dici Il vero Lion credimi Dai zitta Anna Zitta Anna Dice che non mi mentirebbe mai E beh allora Siamo a posto Giura Oddio Se mi menti Ti banno Dal canale Non vedi più I video Non lo so Potremmo rimanere qui Tutta la sera E beh Facca 60 secondi Io penso che sia Anna Ok Va bene E Anna Buttiamola fuori Decido di credere Al mio sesto senso Occhio terzo Davvero Sì Davvero Davvero Oh Se è Vongola Ma attacco il cazzo Va bene No no Se è Vongola Dormi sul divano Non me ne frega Sei te Oh Sto convinto Per la cronaca Non si chiama Vongola Su Twitch No Ha vinto Vongola Sì però Anna Ha detto anche Easy Ecco Easy Ha scritto Easy Per oggi Lion out Sì 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 Grazie a tutti.